Sandro Mugnai e i suoi familiari si trovavano in un oggettivo pericolo di vita e non esistevano vie di fuga. Il pronunciamento dell'ingegnere Fabio Canè, incaricato dal PM Laura Taddei, depone a favore della legittima difesa per Sandro Mugnai che uccise il vicino di casa che con la ruspa gli stava demolendo la casa a San Polo, ad Arezzo. La vicenda risale al 5 gennaio 2023. Tre ruggini tra vicini di casa, un mezzo meccanico che si muove nella notte e comincia a colpire con la benna il muro della casa con dentro sette persone. Sandro Mugnai imbraccia il fucile da caccia ed esplode cinque colpi, di cui quattro raggiungono il vicino di casa, uno sarà mortale. Il GIP Giulia Soldini, che scarcerò l'uomo nei giorni successivi a quanto accaduto, ritenne esistenti i presupposti della scriminante e della legittima difesa. L'inchiesta della procura dopo il deposito della relazione dei carabinieri del RIS, del medico legale e dell'ingegnere si avvia alla sua conclusione.